Hai visto che le cripto non performano bene come Bitcoin? Perché questa cosa sta succedendo e quando cambierà? Beh in realtà non è del tutto vera questa affermazione perché alcune criptovalute stanno performando come o meglio anche di Bitcoin. Il problema è che alcune cripto in particolare quelle belle grosse belle pronunciate come ad esempio ETH non stanno facendo questa cosa e che in particolar modo altre criptovalute quelle più piccole i cosiddetti sminuziosi quindi le diciamo le spezzatine quelle che sono un po' più in basso stanno andando veramente male sono andate male per un anno in più di Bitcoin. Questo è vero ragazzi però non è del tutto vero il concetto che non ci sono occasioni nell'ambito delle cripto perché per esempio vi faccio vedere alcune criptovalute che stanno performando un po' meglio di Bitcoin e sono anche top. Ad esempio ADA è la stessa AVE oppure AVAX sta performando meglio di Bitcoin da ottobre, ADA anche lei da pochissimo da ottobre, poi Injective invece addirittura da più di un anno sta performando meglio di Bitcoin, LINK sta performando meglio di Bitcoin da giugno, MATIC invece è un'altra di quelle che non performa bene, RUNE invece per esempio sta performando meglio sempre da giugno, Solana stessa identica cosa da circa giugno addirittura il minimo è dicembre 2022 però poi qui c'è stata una linguona di Bayer. Insomma non sono tutte le cripto che stanno andando male contro Bitcoin, sono alcune cripto che stanno andando male ma quando cambierà questa cosa, quali sono i grafici che dobbiamo guardare e soprattutto un concetto di cui voglio parlare proprio oggi. Un concetto che a me sta a cuore ragazzi perché poi al di là dei grafici bisogna ragionare e comprendere un po' quello che sta succedendo secondo me in questa fase del mercato delle criptovalute e questo concetto che vi dirò in questo video è il mio punto di vista di quando effettivamente potremmo avere un'idea generale sulla ripartenza del settore cripto, quindi non altcoin in maniera consistente e un po' più diversificata. Intanto vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ma poi sei partito per il lungo weekend dell'Immacolata, sei all'estero, il 18% di italiani è andato all'estero e non sai come guardare il catalogo Netflix con quel film di Natale che stavi guardando proprio ieri, ve lo puoi fare con NordVPN perché attraverso NordVPN è possibile collegarsi con una VPN italiana e quindi Netflix vi fa vedere quello che è il catalogo italiano con quello che stavate guardando, sì perché alcuni film ad esempio del catalogo Netflix non sono disponibili se siete in un paese estero. Allo sponsor di oggi è NordVPN, ragazzi è una VPN che per il mercato cripto è anche molto utile in quanto può servire per esempio a evitare che i vostri dati, quelli che state mimettendo per esempio quando navigate, se create per esempio un nuovo wallet, andate su Metamask e cliccate per creare un nuovo wallet, dovete inserire, vi fanno vedere la passphrase con il seed, con tutte le password, voi li salvate eccetera, però in quel momento magari è sempre meglio essere protetti e quindi avere uno schermo che protegge insomma la visualizzazione dei dati e quello lo fa la VPN durante appunto la navigazione. Nord è una delle VPN più importanti, abbiamo imparato ovviamente a conoscerla nel corso di questi anni, è facilissima anche da utilizzare e poi ci sono diverse anche funzioni che potete trovare appunto nel link che vi lascio in descrizione. Tra le altre cose, dal link ragazzi per il piano a due anni c'è un risparmio di oltre il 62% per il piano intermedio, quello che prevede per esempio la possibilità di avere più dispositivi contemporaneamente connessi alla VPN, poi l'anti-malware e il blocker, l'anti-blocker che comunque è sempre estremamente importante. A me quello che piace tantissimo ormai, lo dico sempre, è il password manager. Allora secondo me una delle applicazioni più importanti che tutti devono avere è il password manager. Ora ovviamente qualcuno di voi nel settore delle cripto dirà no, password manager, non puoi mettere i tuoi password online, però è comodo ragazzi e ovviamente dobbiamo, cioè io ho 6.000 password, non mi ricordo dei siti vari eccetera, devo utilizzare password manager. Vi resta il link in descrizione di NordVPN, torniamo a parlare della questione delle cripto e intatto partiamo per gradi. La questione legata per esempio al discorso di, che vi volevo dire, legata alla questione di che cosa secondo me stanno facendo, qual è la narrativa che avremo nei prossimi mesi sulla questione Bitcoin barra altcoin. Intanto due grafici che sono fondamentali da guardare e vi ho ormai detto, vi ho fatto la testa tanta, una cosa così è il grafico di Ethereum contro Bitcoin, un grafico ancora in trend ribassista, seppur dalla giornata di ieri qualcosina si sta iniziando a muovere. Meno 40% Ethereum contro Bitcoin da settembre del 2022, questo significa che Ethereum ha performato peggio di Bitcoin da settembre del 2022. Questo costrutto è rilevante, si sta andando a creare una barra di congestione, soprattutto ETH ha individuato un livello di supporto intorno a 0,050. Ora, da questo livello di supporto è partito un rimbalzone e ci può stare, il problema è che questo rimbalzone è ancora al di sotto di livelli importanti, però proprio nella giornata del 7 dicembre ha fatto più 6,70 contro Bitcoin, ma in realtà poi cosa è successo? Niente, perché se da qui ragazzi questo movimento non continua e quindi sale al di sopra di questo livello, non è cambiato nulla, quindi in sostanza questo è solo l'ennesimo rimbalzo, però è un rimbalzo consistente. Quindi intanto secondo me qualche avvisaglia di riflessione c'è. Poi c'è da vedere un altro grafico che invece è il grafico a cui tengo di più, che secondo me è un grafico importantissimo non solo per le top crypto, ma per le crypto che sono un pochettino più piccole. Questo grafico invece si sta iniziando a muovere e non è ancora imponente il suo movimento, però si sta iniziando a muovere ragazzi e soprattutto in questa settimana, mancano due giorni alla chiusura di questa settimana, sta tentando il break della sua area di resistenza intorno a 300 billion. Questo è il grafico della total market cap delle criptovalute, escluse le stable coin, escluse bitcoin, escluso ethereum, quindi sono le altre cripto dove ovviamente la fanno da padrona dnb, matic, solana, cioè tutte quelle cripto che sono nella top 20 la fanno da padrona, però in sostanza questo è un grafico che potrebbe pilotare l'arrivo di una mini alt season. Vi avevo parlato per quanto riguarda dicembre di una mini alt season, alcuni di voi mi hanno detto, Mauro ma questa mini alt season non c'è, in realtà è c'è la mini alt season ragazzi, il problema è che magari non avete voi quei progetti lì che stanno facendo la mini alt season a dicembre, perché alcuni progetti estremamente interessanti l'hanno fatta questa alt season, per esempio già vi dicevo l'altro giorno, prima all'inizio del video, che c'era ADA che sta performando meglio ragazzi, e da questa zona per esempio si è sparato un rialzo, poi che sia, io li capisco, alcuni di voi magari vogliono vedere i riflessi stellari nel discorso delle cripto, rispetto a bitcoin questa cosa in questo momento non è possibile, ora vi dico anche perché dal mio punto di vista, però essenzialmente lì i rialzi ci sono, poi che vi aspettate 1000% più di bitcoin è un discorso un po' diverso, però qui abbiamo un 20% per esempio di ADA, poi alcune cripto che sono anche importanti, come ad esempio Link, sta performando molto bene in questa fase ragazzi, tutto novembre l'ha fatto al rialzo rispetto a bitcoin fino all'11, ora ha fatto una leggera fase di declino, sta chiudendo una fase ciclica e vediamo insomma se riprende un altro trend, però anche questa struttura, anche questa cripto che è abbastanza imponente, sta continuando, Solana non si è fermata ragazzi, anche lei dalla struttura di ottobre si è fatta tutto novembre il rialzo, poi una fase di bassista che ha chiuso probabilmente un ciclo contro bitcoin, qui la vediamo e sta tentando di superare i suoi massimi, altre criptovalute, per esempio la stessa CRO ha fatto un super rimbalzo, vedete tutto ottobre novembre, si è fermata un po' come tutte quelle a novembre, poi adesso sta cincischiando a e-gold, stessa cosa, è vicina ai massimi contro bitcoin, questo è contro dollaro però, diciamo sta performando abbastanza bene, adesso vediamo se la trovo, eccola qui, contro bitcoin, sta performando abbastanza bene, anche lei, vedete, in questa zona però si è fermata, questo perché? Perché alcune criptovalute in questa fase stanno attendendo delle strutture di chiusura ciclica importante, che sono i trimestrali, ora, concettualmente cosa significa? Che prima della chiusura di un ciclo trimestrale di queste cripto, vedere proprio un'impennata imponente è difficile, però teoricamente molte di queste chiudono i cicli intorno a gennaio, quindi da fine anno in poi, e sarà interessante appunto andarle a monitorare, la stessa Matic per esempio, che ha una struttura invece estremamente più prudenziale rispetto a bitcoin, quindi in pratica non è ribassista come TH, però non è neanche rialzista, perché da ottobre ha fatto questa impennata e poi ha chiuso con questa fase qui, da questa zona potrebbe riprendere una sorta, diciamo di trend in barra di congestione per arrivare di nuovo sopra questi massimi, ma perché invece se andiamo a guardare quella che è la total market cap delle cripto in generale, escluse appunto quelle che vi dicevo, bitcoin e stablecoin ed ethereum, oggi, in questa settimana, scusate non oggi, sta facendo più 8% e quindi sta attentando il breakout di questo livello imponente, perché superata questa fase dichiarerà l'ingresso in un trend di, diciamo rialzista di medio periodo, e quindi un'inversione dal vecchio bear market che cambia. Il vecchio bear market si chiuderà quando, a livello statistico, supereremo questo livello qui, e se ci fate caso, infatti è questo livello che sta un po' tenendo banco, tutta quest'area, vedete, sta tenendo chiusa questo mercato, anche qui era stato toccato, poi il ribasso, ora sta attentando di nuovo il breakout, perché è il livello che statisticamente segna, veramente, la fine del bear market delle cripto, che è durato un anno in più di bitcoin, ragazzi, per via di alcuni discorsi, ora ne parliamo, non ve ne andate, che ora ne parliamo, ed è importante questa cosa che voglio dirvi, perché dobbiamo rifletterci insieme, però questo dato statistico poi diventa inequivocabile, è una cosa tecnica insomma, da un punto di vista matematica, quindi qui il trend ribassista, seppur si era fermato, arenato verso l'inizio del 2023, poi cosa è successo? Che è rimasto in barra di congestione, mentre qui bitcoin ha tirato su un app, che l'ha riportato vicino alla zona di range dei massimi, mentre qui non è successo assolutamente niente, e cosa significa? Significa che le cripto hanno fatto un annuale in più di congestione, che potrebbe essere identificabile come un annuale di accumulo, nel settore delle criptovalute, poi cosa succede? Che bisogna seguire il mercato, nel momento in cui questo annuale diventa mercato rialzista, cioè significa che viene indicato che il prezzo di queste cripto assume un trend rialzista, allora a quel punto potrebbe essere identificabile come riaccumulo. Attenzione ragazzi, perché un annuale di accumulo di questo grafico significa, in parole tecniche, che potremmo assistere, l'annuale intanto non ha ancora chiuso, quindi dovrebbe chiudere poi verso il primo trimestre del 2024, insieme probabilmente a quello di bitcoin, potremmo assistere poi a un nuovo trend, questa è la vera alt season ragazzi, questa qui si avviene, e l'unico modo per vederla è questo qui, a livello tecnico, cioè devono esserci questi dati tecnici, poi sottostanti ci saranno N News, ci saranno progetti che stanno pompando a livello di marketing, e quindi cambiano di nuovo i prezzi delle cripto, perché si instaurano quei meccanismi, diciamo a spirale rialzista, ci saranno mille news che porteranno a quei risultati, ma il dato lo vedete sempre su questo grafico qui, quindi se questo grafico vi dà un segnale, c'è qualcosa che si muove, altrimenti cambia poco, sono solo news che circolano nell'aria, nell'etere, non vagano, cioè in sostanza non sono negative, ma magari poi vengono sfruttate dopo dal mercato, quindi se voi volete ragionare in termini da investitori, dovete poi assistere a questa cosa, tra l'altro per chi si ricorda il mio video, dove vi spiegavo la tecnica della FWG Fair Value Gap, quella da un punto di vista di strategie di trading, e ve la lascio sulla mia testa ragazzi, perché così riuscite a vedere, è un doppio episodio della Fair Value Gap, dove spiego questa strategia, c'è un Fair Value Gap interessante, ed è proprio in questa zona qui, che va da 350 billion a 455 billion, teoricamente per chiudere questo Fair Value Gap, le criptovalute dovrebbero fare appunto, questa mini alt season a momenti, per entrare in questa struttura, e poi andare a chiudere il loro ciclo, probabilmente annuale, ecco perché vi avevo parlato anche l'interno di quel video, del monitoraggio di alcune criptovalute, in questa fase, perché potrebbe essere interessante, se questa configurazione di trading, viene rispettata, e quindi la questione è interessante, andiamo però alla questione, perché secondo me Bitcoin ancora troppo forte, e lo switch sulle altcoin, soprattutto su ETH, non sta avvenendo ragazzi, allora ETH è la seconda criptovaluta, più importante dopo Bitcoin, ma è anche quella più costosa, cioè se tra virgolette noi ragioniamo e diciamo, è una criptovaluta che ha tanto capitale, non come Bitcoin, però ha una valutazione importante, rispetto alle altre cripto, in termini di market cap, allora questa cosa è importante andarla a considerare, perché per muovere una criptovaluta imponente, come per esempio ETH, vi stavo prendendo la market cap, 300 miliardi, quasi, 284 miliardi, allora per muoverla, non è necessaria la potenza che ci vuole per Bitcoin, però comunque un po' di forza ci vuole, se considerate infatti che ETH rispetto alla cripto più in basso, che non è Tether, perché Tether è una stable coin ragazzi, ma è BNB e Ripple che sono più o meno simili, in pratica abbiamo una capitalizzazione che è veramente più ampia rispetto a queste due, circa 8 volte di più ragazzi, e questa cosa è importante, perché per muovere Ethereum servono 8 volte le forze, e quindi la demanda, la domanda rispetto a una BNB che comunque è la quarta XRP, se poi andiamo a quelle più in giù, ci rendiamo conto che sono minuscole rispetto all'ETH, prendiamo per esempio la stessa Chainlink, comunque serve circa 28 volte la forza di Chainlink per muovere Ethereum, allora questa cosa ci porta a una riflessione, per muovere ETH servono gli investitori un po' istituzionali, non bastano i retail, questo è concettualmente il discorso, perché i retail sì possono fare le mini balene, qualcosina la possono fare ragazzi, però comunque Ethereum è diventata un po' troppo grossa, per essere mossa solo dalla parte emotiva, alcune criptovalute, quelle per esempio che sono al di sotto della top 30, sono molto piccole, non piccolissime, perché alla fine insomma sempre 2 billion sono, però possono essere mosse anche in maniera un po' più semplice, se poi andiamo a considerare quelle addirittura al di sotto del billion, è più semplice proprio muovere, perché parliamo di milioni, quindi lì basta anche una balena che fa qualche movimentino importante e vi muove la criptovaluta, nel caso di ETH servono gli istituzionali, ma gli istituzionali, ragioniamo insieme, cosa fanno in questo momento? Allora ragazzi, in questo momento gli istituzionali stanno creando una sola strategia in termini di mercato hold, ed è quello che vi ho detto più di un mese fa, quando a tutti gli amanti del mercato hold ho spiegato dicendo attenzione che l'asset finanziario del 2024 sarà uno, e cioè i titoli di Stato, e i titoli di Stato significa che in pratica molti di quelli degli investitori sono andati a livello diciamo istituzionale, sono andati a colmare le norme di vario che si era andato a creare nei titoli di Stato, soprattutto degli Stati Uniti, in questo caso visto che parliamo di cripto possiamo parlare di mercato globale, e hanno dato spazio a questo trend ribassista che state vedendo in questo momento sul ventennale, per esempio ho preso il ventennale, quindi un titolo medio-lungo degli Stati Uniti. Allora questi sono movimenti di ingresso, di capitali nel settore istituzionale, del settore istituzionale nei titoli di Stato. Tant'è vero che BlackRock, il nostro amato BlackRock, proprio negli scorsi giorni ha tirato fuori un suo point of view e dei consigli ai suoi investitori, dove diceva posizionatevi sui titoli di Stato, a livello globale eccetera. Quindi gli istituzionali sono impegnati in questo momento ragazzi, al posizionamento sui titoli di Stato. Quelli che invece vogliono optare per una questione speculativa, sono indirizzati nel mercato delle criptovalute solo su Bitcoin. Ma questo perché ragazzi? Perché c'è in ballo l'approvazione dell'ETF. La partita che gli istituzionali si stanno giocando in questa fase è quella sull'ETF di Bitcoin, non è quella su Ethereum. La partita su Ethereum non è mai iniziata, non l'hanno neanche considerata in questa fase. Quindi ETH è per questo che viene un po' 3,8 snobbata. Non è neanche così perché alla fine se riprende insomma una nuova fase ciclica potrebbe riavvicinarsi un po' e recuperare questo meno 40 che ha avuto nell'ultimo anno rispetto a Bitcoin, recuperarlo magari facendo più 20 rispetto a Bitcoin. Quindi alla fine stazionano, sta lì, aspetta in sostanza. Però quando poi sguicceranno probabilmente gli istituzionali che servono, come vi ho spiegato, per cercare di far muovere una cripto come ETH, lo faranno quando la narrativa dell'ETF di Bitcoin sarà terminata e cioè quando sarà approvato l'ETF di Bitcoin. Perché una volta che verrà approvato l'ETF di Bitcoin e ci sarà magari il pump, poi il sell on news naturale dei mercati, quella è il rumore dei mercati, quello è trading ragazzi, non è la news sottostante, la news sarà apocalittica, poi verrà sfruttata nei prossimi due anni, non in due giorni, ma ovviamente una cosa che poi dite è sceso dopo, dopo può scendere perché parliamo di trading, di sell on news, di short term, ma poi nel lungo periodo una notizia del genere è dirompente in termini di cripto, quindi cambia l'intero mercato, quello poi verrà assorbito nel corso del tempo. Però in quelle prime fasi noi assisteremo probabilmente poi è uno switch di attenzione da Bitcoin ad ETH. Perché? Perché la successiva che potrebbe vedere approvato in effetti un ETF spot sarà Ethereum, perché non è che andranno a prendere insomma altre criptovalune, altre criptovalute, non è che andranno a prendere non so, Avalanche, Arbitrum, no ragazzi? Andranno a prendere ETH per cercare di sfruttare quel meccanismo. E quindi lì ci sarà l'appello istituzionale anche su una cripto come Ethereum. E secondo me lì poi di conseguenza anche a livello riflessivo moltissime criptovalute partiranno in tangenziale proprio alla grande perché seguiranno l'hype del momento, eccetera. Se ci dovesse essere in effetti una richiesta per esempio dell'ETF spot su ETH che viene presa in considerazione in maniera seria. Quindi, primo punto, deve finire la narrativa ETF su Bitcoin e questo è il motivo principale per il quale non vedete un hype enorme sull'ecripto. Finito quello, partirà secondo me una riflessione e dopo un periodo di riflessione ci sarà un hype importante anche sull'ecripto se l'ETF di Bitcoin dovesse essere approvato. Se non verrà approvato e verrà rimandato tutto sarà sguicciato temporalmente più in là, ragazzi. Ma io vi dico una cosa, noi l'ETF spot di Bitcoin lo stiamo aspettando a 2019, ragazzi. Non so se avete idea. E tante cose che aspettavamo nel 2019 che sono state anche provate non hanno modificato il mercato. Quindi può essere anche che una volta provato l'ETF spot non cambi nulla perché poi nella ragione dei casi cioè alla fine dei casi, ragazzi oltre all'attivazione di un prodotto deve esserci anche la domanda per quell'ETF spot. Non ve lo dimenticate che ci sarà secondo me perché quello è BlackRock però deve esserci la domanda, ok? Va bene ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questa cosa se effettivamente stiamo seguendo questa pista, questa linea e scrivetemelo nei commenti lasciatemi un mi piace per questi video tantissimi auguri buona Immacolata e buon inizio feste di Natale a tutti quanti voi ci rivediamo prossima settimana ciao mi piaceэ lo ci rivediamo mi piace spaziamo Grazie a tutti.